Avvocato San Marco, anche quest'anno la FIDAPA ha deciso di scendere in campo in vista della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Non poteva essere altrimenti, visto che è considerato che stiamo parlando di un'associazione tutta al femminile. È un tema quello della violenza contro le donne, ma una violenza in generale. Tra l'altro il 21 novembre, quando si svolgerà il nostro evento, sarà presente tra gli altri la responsabile dello sportello antiviolenza, dottoressa Lina Salomone, che parlerà come argomento di una ferita sociale, perché la violenza contro le donne e i maltrattamenti in famiglia non sono un problema soltanto di chi lo ama, di tutta la società, tutti insieme. Le istituzioni in primis si devono fare carico di risolvere questo gravissimo problema. Le crone che purtroppo ci danno atto che è un problema molto serio. La dottoressa Roberta Buzzolani, il procuratore della Repubblica, parlerà invece dei profili penali, giuridici e dei maltrattamenti in famiglia. Pertanto è un argomento che non è che riguardi solo la donna, ma riguarda tutti noi, perché è ovvio che la violenza può essere anche nei confronti degli uomini, ahimè. Come per tutte le altre occasioni, anche lunedì prossimo l'invito a partecipare è steso a tutta la cittadinanza e non soltanto alle socie della FIDAPA. Allora, gli inviti relativi a tutte le manifestazioni organizzate dall'associazione FIDAPA, presiedute da me, decise insieme al mio comitato di presenza, non sono mai, a meno che non siano situazioni interne rivolte solo agli associati, ma sono rivolte a tutta la cittadinanza e alle scuole. Difatti tutti hanno ricevuto, insomma, gli inviti, le locandine sono state messe affisse un po' dappertutto proprio, perché ci teniamo molto alla presenza di tutti, naturalmente, ben gradita. Grazie a tutti.